Già un punto di nuovo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Italia-Venezuela 2-1 abbiamo avuto un mazzo così Abbiamo avuto un mazzo così perché eravamo così vicini a pareggiarla questa partita E non solo per il rigore regalato al secondo domingo Grazie a Donnarumma abbiamo preso subito il gol Passiamo in vantaggio con Retechi E poi Donnarumma se ne va praticamente in vacanza sulla spiaggia E regaliamo il pareggio al Venezuela Ma come si fa? Quando poi tieni Spagna, Croazia e Albania Nel girone di Euro 2024 Tieni Spagna, Croazia e Albania E fai così contro la Croazia o specialmente contro la Spagna Te ne danno 4 Non è il Venezuela E se hai difficoltà contro il Venezuela Sta inguagliato bello mio Sta inguagliato Però grande vittoria sicuramente 2-1 meritato Più forti ragazzi Però un rigore al secondo minuto Un rigore al secondo minuto Vergogniamoci un attimo Perché contro l'Equador Sarà molto più difficile Sarà molto più difficile Lo dico adesso Contro l'Equador O usiamo questa O ce la mettono in quel posto È semplicissimo È semplicissimo ragazzi Perché oggi veramente Anzi Andiamo un attimo a vedere le statistiche Venezzuela Darwin Mackis Se fa ovviamente dopo 3 minuti Dal vantaggio Direte che pareggia i conti Ragazzi Pareggia i conti Però Tiri totali 12-12 Tiri in posta 4 per l'Italia E 3 per il Venezuela Ragazzi Quindi stavano praticamente a pareggio Stavano praticamente a pareggio E non puoi stare a pareggio Con il Venezuela Adesso ragazzi Lo ridico Contro l'Equador Contro l'Equador O usiamo questa Perché sennò ce la mettono in quel posto E poi ragazzi All'Europeo Dobbiamo completamente risettare Dobbiamo completamente risettare Male Malissimo oggi Però ho vinto veramente A botta di questo A botta di questo Ragazzi Perché così non si può andare avanti Però Alla fine Sono contento Sono contento Sì Sono contento Possiamo vincere ovviamente Contro l'Equador Sicuramente Però ragazzi Vi avviso adesso Sarà molto Molto più difficile Del Venezuela Ragazzi Perché comunque L'Equador è molto più forte Ve lo dico adesso Quindi Usiamo questa E cerchiamo di discutere Sta pausa In un modo positivo Perché ragazzi Non mi voglio intossicare Soprattutto Non vedo l'ora Che torni La Serie A Se vogliamo giocare così Ragazzi Portatemi al 30 marzo All'Azio Juve Portatemi al 30 marzo Invece Se giochiamo bene Mi fate godere Sta pausa Nazionali Forse ragazzi La guardo con un po' più entusiasmo Perché vederci pareggiare quasi Contro il Venezuela Cioè Col Venezuela Quando voi Tieni Bosnia E non mi ricordo chi Bosnia Contro chi giocava Non mi ricordo Bosnia e Turchia E poi tiene Albania Spagna e Croazia E anche in Nations League A settembre Tieni ovviamente La Francia Tieni il Belgio Ragazzi L'Israele Ma O ci svegliamo Perché ragazzi Io tiferò sempre In qualunque partita Per l'Italia Ragazzi Ricordate Perché sono italiano Quindi si tifa Però se facciamo minchiate Contro la Croazia Contro il Belgio Contro la Francia Contro la Spagna Ragazzi Non ce ne danno una buona Non ce ne danno una buona Comunque Ci vediamo ovviamente Compredizioni Ecuador-Italia Ragazzi Però sempre Forza Azzurri O sempre Forza Azzurri Fino alla fine E sempre Forza Juve Giustamente Però Spalletti Spalletti Usa questa Perché oggi Abbiamo rischiato grosso Abbiamo rischiato grosso Però alla fine Siamo italiani Sono italiano E tifiamo Fino alla morte Juventus E nazionale Punto Ciao ragazzi Per il canale Commentare E ci vediamo Compredizioni Ecuador-Italia Ciao ragazzi E Forza Azzurri Sempre